Dove c'è lei ci sei anche tu Dove tutto quel che vuoi succederà E la forza delle immagini La realtà è la fantasia Che come sempre ti prende E accende la magia TNC, TNC, siamo tutti noi TNC, TNC, è un altro vivere Vivere insieme a te TNC, TNC, siamo tutti noi E più che mai quel che tu vuoi TNC, TNC, è un altro vivere Il disco dell'anno Lorin Masel dirige la filarmonica di Vienna nel concerto di Capodanno 96 Dal 20 gennaio nei migliori negozi Solo su CD e cassette RCA Quando hai poco tempo per dare una mano alle tue mani Crema fluida a rapido assorbimento agisce velocemente Lasciando le tue mani morbide e vellutate Da Glysolid crema fluida e gel E con il nuovo dispenser crema fluida è ancora più pratica Con Citroen ZX 3 milioni di supervalutazione dell'usato anche se da rottamare E in più nessun anticipo e 60 rate Citroen ZX 3 e 5 porte Bel colpo Oggi c'è una nuova tecnica che capovolge l'idea del benessere E ci dà un gusto tutto nuovo Da Filadelfia Fresco Vivo Un formaggio con i fermenti lattici vivi Filadelfia Fresco Vivo Il benessere dal vivo Quattro preziose qualità di tè racchiuse in una miscela unica Ecco perché da sempre ci sentiamo viziati da teati Amici della natura vi ricordo che anche quest'anno Golia Bianca rinnova il suo impegno a favore degli orsi bianchi 820 milioni sono già stati devoluti da Golia Bianca al WWF Ma con il vostro aiuto possiamo fare ancora di più È facile, basta scegliere Golia Bianca Il tenero confetto ripieno di freschezza Ecco la prova, mi tradisci? Guarda qua, due borse È uno zainetto Ma dove credi di andare, eh? Ah, una straniera Infame Una guida turistica E con i migliori alberghi Una vera fuga d'amore E non in Italia In Europa E perché non nel mondo? No! Chi è fedele a Repubblica e raccoglie ogni giorno i punti check-in Vince prami sicuri, anzi sicurissimi E questo? E in più c'è l'estrazione di un giro del mondo in business class Per due? Per due, sì Verdi feste findus Un sorprendente incontro di verdure Chi è? Chi è? E ancora più? Tu dai un colpo in testa a me E io do un bastoncello in testa a me Calma, calma, ve li do io i bastoncelli I bastoncelli findus Squisite sorprese di piselli Carote, mais e patate Insaporite con formaggio In una fragrante panatura Bastoncelli findus Finalmente la verdura divertente Nonna E la merenda? Chiamiamo il signor Gianni Pronto? I miei nipoti vogliono la merenda Sì, col cioccolato Che bella fresca C'è il Kinder Pingui Croccante cioccolato e latte fresco pasturizzato Kinder Pingui Nutre come una merenda Piace come un gelato Quello che ti serve piccolo mio È una bella fidanzata Vorrei studiare da infermiere Jeff Goldberg Due metri d'allergia Un mercoledì sera alle 20.30 Su TMC